Ciao a tutti, eccoci a Baciba, vi presento l'oceano atlantico e questi sono i famosi sassi dove il mare fa questo bellissimo aspetto. Siamo oggi nel punto più vicino all'Italia, in quella direzione c'è l'oceano atlantico e c'è la costa europea, diciamo. Piccolo panorama. Vi lascio sentire il rumore dell'acqua.